L'opera in questione è ritenuta strategica dal Governo. Da tutto il Governo io condivido profondamente questa scelta. Il nostro problema non è quello di estrarre il petrolio, è quello di consumarne meno in linea con quanto abbiamo deciso nella COP21 che lei citava. A me pare, per concludere, che in questi giorni si stiano confondendo profondamente, strumentalmente, ruoli e funzioni. La magistratura sta facendo il suo lavoro e accerterà eventuali responsabilità. E che sia chiaro, chi sbaglia, chi ha sbagliato va punito. Questa è la linea del Governo, in questo e in tutti gli altri casi. Un Ministro ha ritenuto di dimettersi per una telefonata inopportuna. Abbiamo apprezzato il gesto così diverso dai comportamenti del passato. E chi parla di Governo inquinatore o amico degli inquinatori fa finta di dimenticare che siamo stati noi dopo decenni a portare a termine quella svolta di civiltà che sono gli ecoreati inseriti nel codice penale. Che siamo fra i Paesi con la più alta percentuale di rinnovabili in Europa. Che sulla green economy diamo lezione agli altri Stati. Certo non ne prendiamo. Questi sono i fatti. Però oggi stiamo assistendo a una strumentalizzazione politica antiimprenditoriale che mette tutti nello stesso calderone. La stragrande maggioranza degli imprenditori seri e onesti con pochi pseudo imprenditori disonesti. Come se fare impresa voglia significare necessariamente devastare l'ambiente. Una posizione che sembrava sconfitta dalla storia e che invece torna pericolosamente in Italia come frutto avvelenato della demagogia. Chi continua a mettere l'uno contro l'altro impresa contro l'ambiente vuole solo la decrescita e il male di questo Paese. La ringrazio.